Buone notizie per quanti soffrono l'ondata di calore che sta interessando la Campania e tutta l'Italia. A partire da mercoledì infatti arriverà a Salerno e su tutta la regione Campania il vento di tramontana che spazzerà via l'umidità. E' infatti proprio l'umidità che fa percepire una temperatura maggiore di quella effettiva. Dunque questo caldo soffocante durerà fino a metà settimana, poi la situazione migliorerà sensibilmente. Ancora tre giorni di caldo a foso intenso e quindi di disagi fisici soprattutto durante le ore del pomeriggio e in prima serata quando il tasso di umidità tende a salire. Questo perché? Perché siamo interessati da un forte anticiclone di tipo subtropicale, anticiclone che spinge verso le nostre zone masse di aria molto calda che uniti all'umidità presente in prossimità del suolo causa disagi fisici e quindi a fa intensa. Ne ho detto altri tre giorni, poi fortunatamente verso il fine settimana il vento cambierà direzione, quindi non arriveranno più masse di aria dalla Nord Africa ma soffierà la tramontana, quindi il vento decisamente più secco proveniente dall'Europa centro-orientale. Quindi tramontana, ventilazione e tasso di umidità, insensibile diminuzione nel fine settimana. Per il resto bel tempo, quindi cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Qualche addensamento potrà arrivare nel corso del fine settimana quando non escludiamo qualche isolata pioggia di passaggio, ma di questo poi ne riparleremo, si tratta comunque di fenomeni isolati e di brevissima durata.